Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, come state? Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. La politica fatta in mezzo alla gente è tutta un'altra cosa. Parla di problemi concreti, di come rilanciare le aziende nella zona del terremoto, di come lavorare sull'agroalimentare, di come venire incontro ai temi dei produttori, degli agricoltori. Il viaggio in treno del PD serve a questo, uscire dal chiacchiericcio del transatlantico, dal chiacchiericcio del dibattito politico ed entrare nei problemi veri degli italiani, raccontando ciò che si è fatto, ma soprattutto immaginando ciò che si può fare, perché l'Italia, lo vediamo, è il paese più bello del mondo, ma ha bisogno di più investimenti e di più futuro. E l'apertura è una campagna elettorale? No, è una campagna d'ascolto. Qui non siamo a parlare, a chiedere i voti, siamo a chiedere idee, una cosa diversa. Di solito i politici chiedono soltanto i voti. Noi chiediamo idee, suggerimenti, discutiamo nel merito, cerchiamo di capire, di approfondire. E naturalmente diciamo anche la nostra, ma è una campagna d'ascolto per la campagna elettorale Centella.